Grazie a tutti che siete qua, grazie soprattutto all'associazione della Villa Pallavicini che ci sta ospitando e che ha accolto la nostra proposta per questo concetto inaugurale della stagione 2018 di Classica Aperta. Questo risponde perfettamente ai nostri obiettivi che sono quelli di portare la musica classica e la bella musica dappertutto. Ascolterete un concetto straordinario fatto da quattro sorelle, le sorelle Zamper suoneranno Bach, Chopin, Brahms, eccetera. È una gioia vedermi così tanti qui. Mi raccomando, leggete cosa saranno in il nostro prossimo programma, che è tutto abbastanza vincente. Andiamo un po' nelle zone decentrate e cerchiamo di conoscere il territorio, perché la cosa importante, oltre a fare musica, è conoscere dove siamo, che tipo di realtà ci circonda e di mettere insieme le persone in un'atmosfera gioiosa. Quindi buon concerto a noi. Grazie. 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 Grazie.